buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al canale b world 2.3 che cosa parleremo parleremo del 58esimo episodio dell'era glaciale le avventure e nell'episodio precedente hanno sbloccato fuochi divampanti il continente o l'isola come preferiamo chiamarla va e non solo anche aver sbloccato bloccato salvato il primo animale dell'ambiente vulcano perché già l'ambiente vulcano l'avevamo sbloccato da un pezzo salvato ma qua cosa potremmo fare non lo so vedremo che cosa mi potrei vendare insomma intanto vi auguro una buona visione eccoci qua ragazzi nel 58esimo episodio dell'era glaciale le avventure e che facciamo in dando raccogliamo qua no non è abbastanza peccato qua è completa tranne qua quindi esploriamo questa terra e vediamo oh finalmente il palo abbiamo sbloccato bene releghiando va bene 17 ora quest'ora era già pronto se l'avrei fatto però non mi bastavano comunque va esploriamo i fuochi di pampanti l'avrei Sì, questo è il motivo che ti porti l'hanno in. Sì, hai fatto che ti porti l'hanno in. Sì, hai fatto che ti porti l'hanno in. Non trovo gai. Let's do this, see? This is why you breathe. Bingo! Gotta chop down some trees to make a path. Are you crazy? I can't get over there. It's gonna be good. Yeah, no problem. Good fun. Unless I grow wings and fly, I can't get over there. On it. Time to get on it. See, this is why you bring them there. Let's dance. Wait, fine. There were other. Once you get a frog, it's true to be nature for a productive animal. Too much in the way. Gotta clear a path first. Let me show you how much it's going. Not a chance. We've got a clear path. You think I can be a fool? Are you crazy? Yeah, run! That's what makes me. I can't get over there if I clear a path, silly. Gotta chop down some trees to make a path. Great fight. The angle body, do you want to get this one? That's what's going on. Outro tree. It's like a day. I can't get over there. I need to restructure it. beh nel frattempo ripariamo l'altra sfonda e ancora ce n'è non è che è finita l'avete visto perciò l'avete visto e che facciamo andiamo a esplorare Scratalandide a esplorare a esplorare a esplorare è lì ma come faccio a raggiungerlo una perla ricordatevi che qui ho speso delle ghiande a esplorare a esplorare a esplorare a esplorare a esplorare a esplorare no dai a esplorare un abitante continuiamo a esplorare molto meglio a esplorare a esplorare a esplorare a esplorare a esplorare siamo a 3 ne devo trovare 5 a esplorare a esplorare troppo sem dice è che ho avuto fortuna guarda caso ottimo lavoro a presto Grazie a tutti. No, il livello massimo è il livello 15 e ci sono quasi a portarlo al livello 13. Dai, un'altra partita ce la facciamo. Grazie a tutti. 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 Un altro salvataggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono andato fortunato. Grazie a tutti. Quattro abitanti. a tutti. Grazie a tutti. No, non ce la fa. è troppo. esatto. non ce la fa. però... già lo abbiamo portato. attenzione. Attenzione. direi che... direi che... per la glaciali avventure. la glaciali avventure.